Domenica 12 ottobre si sono svolte le prime elezioni per le nuove province, così come volute dalla riforma del Rio. Non più un voto popolare, ma preferenze espresse dai sindaci e dai consiglieri comunali. Torino diventa nominalmente città metropolitana, ma resta con lo stesso territorio di prima. Il presidente è automaticamente sindaco del capoluogo, Piero Fassino. A guidare la provincia di Cuneo è Federico Borgna, ad Asti Fabrizio Brignolo, a Novara Marco Besozzi, nel VCO Stefano Costa, a Biella Emanuele Ramella Pralungo e ad Alessandria Rita Rossa. La provincia di Vercelli andrà al voto alla scadenza della legislatura nel 2016.